Protagonista nei governi locali è il titolo di un nuovo ciclo di incontri di approfondimento e formazione promosso dal Consiglio regionale e dalla consulta delle elette e rivolto in particolare alle amministratrici. Il percorso, gratuito, si tiene tra il 6 marzo e il 2 aprile in sei sedi sul territorio piemontese Alessandria, Asti, Torino, Cuneo, Vercelli e Novara. Informazioni e iscrizioni al numero 011 812 6730. Grazie.